BOOM! Salve a tutti, io sono Filippo Biondolillo e questo è un nuovo video in questo video parlerò delle lentine queste sono delle Pinky Paradise e vi lascio il link in descrizione queste lentine sono le Pinky Blue mi sono trovato molto bene con questo tipo di lentine sono molto confortevoli e non mi hanno creato nessun tipo di problema invece ho provato altre lentine e mi danno molto fastidio prolungando le ore invece queste ci sono state più di 6 ore e non mi hanno regato nessun fastidio, nessun problema ovviamente se siete nuovi nel mondo delle lentine e vi volete buttare a capofitto in questo magico mondo di occhi colorati qua vi darò alcuni consigli su come mettere le lentine e come approcciarsi al mondo delle lentine ok, allora la prima dritta che vi posso dare è il sito dove comprare le lentine che è Pinky Paradise come vi ho detto prima e vi metto il link in descrizione come anche vi ho detto prima oppure se non siete molto fiduciosi a questi siti internet e comunque questo è un sito molto famoso potete andare anche dall'ottica del vostro paese e comprare o richiedere delle lenti colorate poi secondo consiglio il mio secondo consiglio è quello che appunto se siete nuovi in questo campo e siete sfiduciosi sul mettere le lentine è normalissimo perché fino ad ora voi non avete mai toccato l'occhio quindi ancora non avete confidenza con quella parte del corpo e vi dovrete abituare appunto con calma e piano voi vi mettete là cominciate a provare le lentine e a provare a metterle appunto quindi non vi preoccupate se ci mettete tanto e non vi preoccupate se vi battono anche due semioni perché è tutto normale io in tutto ci ho messo tre ore contate a metterle davvero tre ore ed è stata la cosa più stressante del mondo ma con la calma voi troverete la vostra tecnica perché ognuno diciamo che è un metodo per mettere le lentine voi trovate il vostro e mettete le lentine adesso vi spiegherò come applicarle e anche che prodotti usare allora il primo prodotto che vi sarà utile è ovviamente la soluzione salina che è la soluzione con cui voi andrete a disinfettare le vostre lenti ed è anche il liquido in cui voi poserete le vostre lenti nel portalentine il portalentine lo potrete trovare o in un pacchetto insieme alla soluzione salina che potete prendere benissimo all'ottica oppure se ordinate le lentine da Pinky Paradise appunto vi regaleranno un portalentine che in questo caso mi hanno regalato questo ma è totalmente casuale la scelta del portalentine che vi daranno per l'applicazione delle lentine invece il miglior risultato l'ho trovato prendendo i due medi, allargando l'occhio e con l'indice mettere la lentina nell'occhio se poi la lentina vi dà fastidio potete prendere le due dita e massaggiare leggermente l'occhio anche perché potrebbe uscire la lentina con una sola lentina si appare così da vicino questo invece è con due lentine da lontano questo è invece con due lentine da vicino e approfittate se volete prenderle perché in questo periodo di tempo cioè la spedizione è gratis ok se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi spero di esservi stato di aiuto e niente, al prossimo video